Medici, infermieri, operatori sanitari, arresti in massa da parte della Polizia di Stato per una brutta storia di maltrattamenti di anziani e disabili all'interno della casa di riposola consolata di Borgodale, struttura specializzata in particolare nell'assistenza a persone in condizioni di disagio psichico o affette da problemi di carattere motorio. Sono 18 gli addetti della struttura arrestati oggi pomeriggio dai poliziotti della squadra mobile di Vercelli. Al termine di indagini avviate nell'agosto 2015, in seguita una denuncia contro i gnoti dal padre di una delle pazienti ospite di quella struttura. L'uomo, in più occasioni, quando si recava a trovare la figlia, le trovava sul corpo diversi segni riconducibili a maltrattamenti. Insospettito aveva deciso di sporgere denuncia. 12 le vittime, ma gli episodi accertati sono più di 300 stando alle indagini.